Nella Champions League delle rimonte ci spera anche il Tottenham. Gli Spurs sono impegnati questa sera alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam contro il sorprendente Ajax. I lancieri hanno vinto la gara d'andata a Londra per 1-0. Tra gli inglesi, assente per infortunio il bomber Kane, tornano disponibili il sudcoreano Son e il belga Fer Tongen, ex dell'Ajax. Ottimista è il manager del Tottenham, l'argentino Maurizio Pochettino. È una gara vincente, penso che sia un momento emozionante per noi essere qui in semifinale. Dobbiamo godercelo e provare a giocare più in libertà. L'Ajax attende la finale di Champions dal 1996, poi persa i rigori con la Juventus. Eliminati i propri bianconeri e Real Madrid, il tecnico Eric Tenag è un passo dalla storia. E sarà storia anche in caso di finale tutta inglese Tottenham-Liverpool che potrebbe essere bissati in Europa League da Chelsea-Arsenal.